E intanto andiamo avanti con le altre notizie, gli altri servizi legati alla politica, le altre candidature, sentiamo. Alla Circo Lomagna Grecia di Taranto, di fronte a una platea numerosissima, la presentazione del candidato alle elezioni europee, Denis Nesci. È un'occasione questa di confronto con la città di Taranto, lei che viene dal mondo del lavoro, del patronato, dei pensionati, degli agricoltori, dei coloro i quali sono alla ricerca di un lavoro, in questa realtà che cosa dice ai tarantini? Dico ai tarantini quello che dico un po' a tutti i concittadini e soprattutto a quella parte del meridione che mi auguro di rappresentare al Parlamento europeo. Dico che bisogna giocarci le nostre carte di essere parte attiva in un progetto di ricrescita, di rinascita. Oggi il tema principale è la disoccupazione, il tema principale è la mancanza di lavoro. Allora il nostro impegno in Europa è quello di cominciare a trovare quelle risorse indispensabili affinché si possa dare l'opportunità all'impresa, all'azienda di dare occupazione. L'Europa può e deve essere il punto di partenza e non può essere considerato qualcosa di lontano. Il futuro dell'Italia è dentro l'Europa, il futuro dell'Europa è l'Italia, ma dobbiamo cambiare l'idea di Europa. Candidato nella lista del nuovo centrodestra, Nesci può contare su una rete perché siete presenti in tutto il territorio nazionale, avete aiutato tante persone, ora l'appello è quello di partecipare al voto. Assolutamente sì, il dovere di ogni cittadino è quello di andare a votare. In questa competizione si può scegliere la persona che ti rappresenti. Allora avendo l'opportunità di scegliere con una preferenza chiediamo alla gente di andare a votare. Oggi si può scegliere e nel momento in cui tu scegli hai la possibilità anche di criticare la scelta che hai fatto. Ma il non andare a votare non ti dà nemmeno il diritto di dover criticare. Allora l'invito che facciamo caloroso è di andare al voto, di andare a votare perché è un'espressione di democrazia. E' la cosa che chiediamo a tutta la gente che noi abbiamo avuto modo di assistere gratuitamente, di condividere un progetto di assistenza e soprattutto di informare la gente di andare a votare il 25 maggio, e di barrare il simbolo del nuovo centrodestra e di scrivere Nesci.